Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Allora oggi un nuovo video, come avete capito dal titolo, questa qui è una copertura fatta da una mia cliente Ha scelto questo bellissimo colore di passione unghie che si chiama Lollipop, ovviamente sempre due passate Nell'anulare invece sono andata ad applicare il gel color sempre di passione unghie a nocciola E nell'anulare poi siamo andate a realizzare dei fiorellini, sempre con il colore Lollipop Ho usato il pure white per fare i contorni del fiore e con il gel colla ho applicato dei brillantini in mezzo al fiore Poi alla fine acqua gloss di passione unghie e olio cuticole E niente, spero che questa nell'arte vi sia piaciuta, se è stato così mettete un pollice in su Sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!